In generale il mio rapporto con il make-up è un po' quello che ho con il mondo della moda, cioè sul palcoscenico mi permette di creare l'immaginario artistico, quello che ha visto della canzone, il colore. E come l'abbigliamento, credo che sia stato determinante in alcuni casi nei nostri progetti creativi, visto che sono sempre molto ambiziosi.